Senti, nostri famigli, nostri caschi, grazie a tutti, grazie a tutto il fuoco. Allora, questa manifestazione quasi realizzata all'improvviso, quasi spontanea, stanno nascendo delle proposte anche stasera qui. Allora, qualcuno della comunità del Carmine, alcuni della comunità del Carmine, di associazioni che fanno riferimento lì, stanno proponendo agli amici ucraini, per i credenti, per chi vuole, Papa Francesco dice che chi non è credente mandi onde lunghe, insomma, facciamo così. Un momento di preghiera per il sabato prossimo nella chiesa del Carmine, magari poi vi diremo faremo sapere meglio gli orari. Se siete d'accordo con i cari di fare le cose, mi scontro. Conosco tanti rumenici, ucraini e colani, forse è anche facile comunicare, più facile con tutti che sono qua e possono sempre venire e dare proposte. Diversi aiuti, noi accettiamo qualsiasi cosa. Noi siamo volontari pure così, spontanei. Noi non abbiamo scelta di fare questo che abbiamo fatto. Noi non abbiamo scelta di stare anche qua. Però a noi costretta la vita. Se ci sono altre persone che possono dare una mano, accettiamo tutto. Grazie mille. Grazie mille. Grazie a tutti. Possiamo rimanere ma possiamo anche ritenere... Conclusa la nostra passione. Inutile 100 minuti. 3-3-9.